Trent'anni di governo del centro-destra e regione Lombardia hanno portato ad un progressivo impoverimento della sanità pubblica e creato lunghe liste di attesa alle quali le persone non riescono ad accedere nei tempi necessari che sono previsti dalla ricetta. Questo fa sì che chi non ha la possibilità economica di poter accedere alle cure private, di fatto rimane escluso dalle cure creando una profonda ingiustizia a livello sociale tra chi può accedere e chi no a cure che sono necessarie anche per la propria vita. Ora con questa proposta di legge e di iniziativa popolare noi vogliamo cambiare completamente l'organizzazione della sanità Lombarda affinché ci sia un rapporto corretto di programmazione verso il privato e in modo tale che tutti i cittadini possano accedere alle cure nei tempi necessari e far sì che ognuno di loro possa avere le prestazioni che sono necessarie. Ci impegneremo in consiglio regionale per far sì che la nostra proposta venga accolta.